L'azienda Timing Centro è una delle aziende leader a livello mondiale per la curvatura dei profili in alluminio e in PVC perché nei suoi impianti ha 10 macchine speciali dove per un mese riesce a curvare oltre 3 diversi tipi di profili. Inoltre, la nostra azienda dispone di oltre 2000 set di utensili per la curvatura dei diversi profili e così la nostra azienda si trova tra le più forti società coinvolte in questo lavoro nel mondo. Sulla base della lunga esperienza della nostra azienda in questo settore siamo in grado di mostrarvi la nostra ultima macchina CNC Team Macchine. Questa macchina funziona secondo la nostra propria tecnologia che, come anche questa macchina, è brevettata in tutto il mondo. Ora avete la possibilità di vedere come inizia il processo della curvatura dei profili in alluminio sulla nostra macchina CNC Team Macchine. Team Macchine è una macchina molto affidabile. I suoi alberi con il diametro 70 mm sono progettati per sopportare il carico di quasi 15 tonnellate per ogni cilindro, il che rende questa macchina forte e durevole. Il peso della macchina è di 800 kg e la dimensione dello spazio di 8x4 metri è sufficiente per il suo funzionamento. Team Macchine con molto successo effettua la curvatura dei profili in PVC con il rinforzo in acciaio il che è stato finora impensabile nel mondo. Team Macchine effettua la curvatura dei profili in PVC sul principio di aria calda, in cui non c'è l'evaporazione delle sostanze nocive e quindi non ci sono neanche gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente, il che rende questa tecnologia molto più pulita rispetto a prima. Si deve sottolineare anche l'alta produttività della macchina Team Macchine, perché il processo della curvatura dei profili in alluminio e in PVC dura 7 a 8 minuti, il che significa che per solo 8 ore si può curvare più di 50 profili. Se decidete di acquistare la macchina Team Macchine, avete a disposizione anche il nostro continuo supporto logistico nel senso di distribuzione dei nuovi utensili e tutte le forniture necessarie per la curvatura dei profili con la grande qualità e naturalmente ai prezzi migliori. Con l'acquisto della nostra macchina Team Macchine avete diritto all'istruzione gratuita del vostro personale di lavorare sulla macchina nella nostra azienda per 3 giorni. Ciò che rende Team Macchine la macchina unica al mondo è che solo una macchina è in grado di curvare con l'alta qualità i profili in alluminio e in PVC con rinforzo, il che è stato finora del tutto impensabile. Se volete assicurarvi della qualità della nostra curvatura, vi preghiamo di compilare il modulo di contatto sul sito web www.team-ing.com e i nostri manager vi invieranno nel tempo più breve possibile il campione gratuito del profilo curvato in alluminio e in PVC. Il prezzo della Team Macchine è più conveniente di qualsiasi altra macchina a controllo numerico CNC per la curvatura dei profili in alluminio e in PVC che insieme raggiungono il prezzo più in alto fino a due volte del prezzo della nostra macchina. Siate una parte del nostro Team Vostro Team Inc. Centro Vostro Team Inc. Centro Grazie a tutti.